ciao addicted guardate oggi di chi vi parliamo si è proprio quella bonomelli che conoscete benissimo sicuramente quante volte avrete sentito dire filtro fiore bonomelli oppure quante volte parlando di camomilla la prima che vi viene in mente è quella bonomelli direi sempre ma quello che probabilmente sapete ma che magari non viene tanto pubblicizzato e che bonomelli non fa solamente la camomilla e no fa anche degli infusi e ha pensato addirittura di creare una box che ci ha gentilmente inviato e della quale noi parliamo a brevissimo io precedentemente aperto tutto così da non fare le mie solite figure e parlarvi appunto di alcune di queste anzi di tutte per meglio dire queste tisane che ci ha inviato e che fanno parte di questa box due le ho anche aperte per farvi vedere all'interno i filtri allora bonomelli ha pensato innanzitutto è al periodo che viviamo quindi il benessere delle vie respiratorie naso e gola questa tisana che può essere fatta con un'infusione a caldo o a freddo contiene menta e chinacea e i loro estratti come potete leggere qui è naturale al gusto di timo e liquirizia piante note per favorire il benessere di naso e gola eucalipto dalle proprietà balsamiche emollienti e lenitive ha inoltre menta estratti di chinacea e menta che sono tutte quante piante che favoriscono le funzioni le corrette funzioni respiratorie allora guardate facilissima ad aprire premere aprire come tutti i prodotti bonomelli vedete queste sono le bustine all'interno di una di queste ci sono questi filtri compostabili quindi filtri che non andranno a inquinare assolutamente nulla io vi faccio vedere tutto quanto anche qui all'interno vedete c'è scritto come prepararle due tazze nel corso della giornata se volete un filtro per 45 minuti o per sette minuti in acqua fredda come gustarlo eccetera eccetera quindi questo naso e gola andiamo avanti poi c'è questa regolarità che era l'altro che aveva aperto per farvi vedere che è appunto per le funzioni e le corrette funzioni intestinali con finocchio rabarbaro senna ed estratto di tamarindo andiamo a vedere questa tisana che si può fare sempre o a caldo o a freddo è una tisana dal gusto speciale e piacevole con finocchio rabarbaro senna anice e carvi piante note perché favoriscono in modo delicato le funzioni intestinali riducendo anche il senso di gonfiore inoltre c'è il tamarindo un fiore tropicale dal proprietà rinfrescate queste sono i filtri tipici filtri bono meglio anche qui sia sui filtri che nella parte interna c'è scritto come fare l'infusione a caldo e a freddo andiamo avanti ci avviciniamo all'estate o comunque in generale c'è chi soffre di questo bel problema cioè il gonfiore la tensione addominale che può essere dovuta a tantissimi motivi a una vita sregolata all'assunzione di farmaci ha dei fattori genetici perché no contiene finocchio anice e carvi allora eccola qui una tisana 100 per cento naturale dal gusto speciale piacevole con finocchio cannella anice e carvi piante tradizionalmente note per favorire la naturale regolarità e contrastare giorno dopo giorno il senso di gonfiore e di tensione addominale anche questo i filtri sono compostabili a caldo e a freddo all'interno troverete non solo i filtri ma anche la spiegazione su come gustare al meglio la vostra tisana sia d'estate sia d'inverno poi abbiamo quello che diciamo di cui non possiamo fare a meno un po di relax con camomilla melissa passiflora ed estratto di valeriana una tisana dal gusto speciale e piacevole con camomilla melissa biancospino e passiflora tutte piante che favoriscono il relax inoltre con la valeriana una pianta che ha delle proprietà distensive anche qui i filtri compostabili infusione a caldo e freddo all'interno tutte le specifiche per gustare al meglio la tisana andiamo anche la tisana digestiva con menta rabarbaro genziana ed estratto di zenzero e una tisana al 100% naturale con menta zenzero coriandolo genziana piante che favoriscono i processi digestivi in particolar modo c'è lo zenzero che se avete mai mangiato il sushi e avete potuto gustare potato gustare lo zenzero sapete che aiuta a digerire soprattutto quando andate in un olio che knit quindi in una tisana digestiva niente di meglio anche dell'aggiunta di un po di zenzero anche qui a caldo e a freddo all'interno delle indicazioni su come gustare ancora una tisana depurativa con cardomariano sambuco ed estratto di tarassaco naturale dal gusto speciale piacevole con equiseto sambuco cardomariano che depurano l'organismo e anche il tarassaco quindi se avete problemi o comunque avete mangiato qualcosa che non va vivete un periodo logicamente come tutti noi abbastanza particolare e quindi magari vi capita di mangiare spesso quello che non dovreste se volete depurarvi questa tisana a caldo e a freddo in inverno o d'estate è perfetta e fa parte di questa box della quale fanno parte anche gli ultimi due involucri allora questo è non è una tisana ma è un infuso erboristico 100% zenzero e curcuma anche questo in bustine protegge aroma con l'infusione a caldo o a freddo e al 100% naturale zenzero e curcuma un abbinamento ispirato alla migliore tradizione erboristica senza aggiunto aggiunta di altri ingredienti adatto soprattutto al post pasto quindi per la digestione anche qui filtri compostabili bustine protegge aroma ed è un infuso erboristico e infine tolgo di mezzo la scatola per prendere l'ultimo prodotto anche questo un infuso erboristico abbiamo fatto il botto con finocchio e finocchietto selvatico a cosa servirà mai sicuramente a sgonfiare a far aiutarci a digerire perché il finocchio dolce e finocchietto selvatico amaro sono un abbinamento ispirato dalla migliore cultura erboristica proprio per alleviare in modo naturale il senso di gonfiore addominale il filtro con il filo io lo apro perché almeno uno dei due infusi voglio farli vedere mentre il tisane sono tutte uguale anche qui abbiamo la bustina che ci conserva l'infuso all'interno qui anche come dappertutto abbiamo il tipo di preparazione 45 minuti come vedete il filtro in acqua calda o acqua fredda e con questo abbiamo concluso la nostra box del benessere bonomelli allora ricapitolo nella box del benessere come vedete sono incluse sei tisane rilassante digestiva depurativa naso e gola regolarità ventre sgonfio e due infusi erboristici uno allo zenzero e curcuma 100 per cento e l'altro 100 per cento finocchio e finocchietto selvatico tutti questi prodotti li trovate in una unica soluzione una box che trovate a questo indirizzo ma che vi facciamo rivedere anche in un indicazione sotto nel box che potete trovare dove acquistarla ma soprattutto potrete usufruire del codice sconto box del benessere che ci ha dato bonomelli con il quale appunto avere uno sconto del 15 per cento quindi tutte queste tisane e infusi li avrete ad un prezzo ancora più conveniente io che cosa dire di più io voglio ringraziare bonomelli che ci ha scelto perché non è una cosa comune insomma poter collaborare con un'azienda così conosciuta per questo noi siamo onorate e ringraziamo per la gentilezza dell'azienda io la ringrazio ringrazio voi che ci seguite vi ricordo che potete trovare tutti questi prodotti all'interno di una box ringrazio ancora la bonomelli ringrazio voi e soprattutto per il codice sconto che ci ha dato e che potete appunto usare per acquistare questa box vi ringrazio vi ricordo di seguirci sui nostri canali instagram youtube gruppo facebook pagina facebook è presso speriamo anche il nostro sito vi saluto vi ringrazio e alla prossima